In Siria, gli Stati Uniti hanno bombardato diverse postazioni della milizia islamica Khorasan. Bersaglio principale, David Rujon, l'artificiere del gruppo esperto di esplosivi e bombe, sarebbe stato ucciso con un raid aereo. Francese, 24 anni, si era convertito all'Islam col nome di Daoud ed era partito nel 2010 per unirsi al jihad nelle zone tribali pakistane al confine con l'Afghanistan. I veterani afghani di Al-Qaeda sarebbero la gran parte dei guerriglieri di Khorasan, gruppo attivo in Siria nelle zone del fronte al-Nusra, principale affiliato siriano di Al-Qaeda. Secondo portavoce degli Stati Uniti, il gruppo stava progettando attacchi contro obiettivi occidentali. I raid americani continuano anche contro i guerriglieri dello Stato islamico che da oltre un mese assediano la città di Kobani, tra Aleppo ed il confine turco. Le milizie kurde peshmerga asserragliate nella città resistono nella speranza di rinforzi da parte dei kurdi iracheni, visto che i raid aerei americani sugli assedianti non riescono a spezzarne il blocco.